Bene, partiamo di primo barba che vi presentiamo, si chiama Amarillo di J. Barbie, è una canzone molto particolare, spero che ve la gustate e in questo mese, in furia di vederla, fate tanta pratica appunto da barba. Poi, un giorno che ci sarà la possibilità di stare tutti insieme, anche nostro insieme al nostro Roberto Stallone, magari perché no fare una bella serata, tutti insieme proprio organizzare quei mega raduni per dire è finito il Covid-19 e balliamo tutti insieme. Allora, noi di Magic Music Latino, canale 889, e vi auguriamo con buona visione con Amarillo. Sommo de las 12, nos fuimos de Rossi, hoi voy a lo loco, ustedes me conocen, me conocen donde tengo, pa' que se lo gocen, saben quien es Barbie, los pesanta Jose, y yo no no me complico, como te explico, que a mi me gusta pasarla rico, como te explico, no me complico, a mi me gusta pasarla rico. Sommo de las 12, salimos a buscar el party, ando con los tigres, estamos en modo safari, con un fue violento que parecemos escari, tomando vino y algunos fumando magia. La policia esta molesta, porque ya se puso buena la fiesta, pero estamos legal, no me pueden arrestar, por eso yo sigo hasta que amanezca en ti. Y yo no me complico, como te explico, que a mi me gusta pasarla rico. Y yo no me complico, como te explico, que a mi me gusta pasarla rico. Y yo sigo a la fiesta, no vamos a parar, aquí solo se para si llama mi mamá. Hoy me tocó seguir, la gente pide más, me invitan por aquí, me invitan por allá. Y vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedi Sola la casa, ya están todas solitas Si saben cómo uso, para qué me invitan, pa qué me invitan Vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedi Sola la casa, ya están todas solitas Si saben cómo uso, para qué me invitan, pa qué me invitan No me complico, como te explico, que a mí me gusta pasarla rico Como te explico, no me complico, a mí me gusta pasarla rico No me complico, como te explico, que a mí me gusta pasarla rico Como te explico, no me complico, a mí me gusta pasarla rico No me complico, na, yo no me complico, na, yo no me complico Grazie a tutti. Bene, continuiamo con il prossimo ballo, vi ringraziamo e noi continuiamo con Magic Music Latino. Grazie a tutti. 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 più importante è mantenere un buon allenamento. Poi per i vostri appuntamenti ricordate i numeri che corrono in sottovisione per i contatti di Tony Manero, quindi me personalmente presso a quelli che sono tutti gli eventi e perché no potete contattare anche Magic Miossi Gratino. Vi saluto, ragazzi mi raccomando restate a casa, Covid-19, la cosa più bella è rispettare quelle che sono le normative. Buona missione, buon ballo e spero che insieme riusciamo a uscirne fuori appunto ad abbracciarci tutti quanti insieme, una bellissima serata, magari un bellissimo locale, insieme al nostro Roberto Stavone con la sua fantastica musica e noi ballerini insieme per divertirci tutti insieme. Ciao a tutti, ciao ragazzi!